devo ammettere che mi dispiace un po' però forse è meglio così mi trovo qui come sempre da andy crystal garage salve e oggi vi dico due cose non una questa è la prima il furgo leo è tornato e sarà più bello di prima in realtà il nome l'ho improvvisato furgo leo non ci può stare dai ve ricordate il fulgone dove tenevo dentro il kart e adesso lo voglio rifare tutto quindi partiamo la verniciatura poi lo rifaremo insieme tutto internamente però appunto per capire del kart oggi è un giorno triste perché perché proprio qualche giorno fa ho fatto un annuncio su instagram delle storie e ho messo in vendita il mio caro kz crg 125 march tm kz 10 un mio compagno di avventure che ho usato tanto per allenarmi forse ve lo ricordate in tanti video e oggi sono venuti i ragazzi a prenderlo lui l'altro ragazzo lì e l'altro che sta ancora arrivando deve arrivare col furgone salve frattempo vediamo cosa c'è dentro il furgone eccolo qui c'entra tutta la roba guardate che bello tutto di legno sembra una baita vorrei mettergli la sauna bagno turco altri consigli ne avete una cosa bella che è tutto coibentato l'avevo fatto io quindi tutti questi pannelli qui che d'estate stai al fresco d'inverno stai al caldo ma davvero allora giochi senza frontiere queste ve ne regalo uno due gomme da bagnato con altri cerchi mi ricordo una cosa che vi può essere molto utile delle pastiglie dei freni nuovi e solo perché mi state simpatici vi regalo anche questi per fare la convergenza in realtà tenete che anche questi che poi vi spiego per cosa potrebbero essere utili un po d'olio scelgo sempre bene olio per il cambio anche questo è molto utile il regalo se l'ho tolto l'ho cambiato il motivo c'è magari è rotto magari anche nuova non è detto prendetelo che può essere sempre utile ho appena visto una cosa che in teoria devo darvi solo il kart ma ragazzi nuova penso usata una volta uno due tre smonta gomme se imparate è vostro ma io penso usato una volta ed ecco l'altro pilota che è proprio lui che mi ha contattato quindi ciao Elia ok andiamo al kart adesso portiamo la roba il kart è faticoso già da questo quindi allora il kart è questo vi piace io la prima cosa che farei lo mettiamo in moto perché poi magari non va un piccolo problema che quella gomma lì è bucata non quella del kart ma del carellino ve lo regalo anche questo qua volentieri ma cambiatela portiamolo fuori che è meglio prima esperienza per tutti quindi partiamo dalle basi quindi lo mettiamo in moto miscela dal 4 al 5 io sono separato verso il 5 è un po più sicuro non dovete fare gare la facciamo arrivare al carburatore l'ho già fatto quindi apriamo l'aria adesso che è freddo farei fatica metterlo in moto ma così quando è caldo poi se sei forte basta che fai così e parte in questo caso qui cinghia vuole qualcuno provare qualcuno che accelera poco quando quando si mette in moto è una piccola c'era è un po' grasso perché fermo la tante oggi era bene mi spiace ancora di più vendo adesso avambracci spalle mani e riflessi allora voi che ti assetto siete nuovi a sale si può mettere più morbido o più duro questo qua penso che sia un medio quindi va bene poi si fa la distanza potete fare la larghezza massima ma se la consentita dovrebbe essere ancora 140 quindi fate uno spessore qua che è quell'angolare che avevo dato prima metro dentro 140 io vado sempre su 139 6 poi trovo mille teorie sui kart questo paraurti che sembra rotto è la cosa che lo dicevo prima loro che fa di più l'assoluto suo assetto se lo lasci molle ha un certo comportamento se lo indurisci se lo abiti o stringi cambia totalmente il kart solitamente i KZ vanno tutti morbidi magari se mi uccidono perché diranno eh no perché mi interessa mi raccomando sempre grasso sulla cadena abbondate fate con la schiuma poi davanti scaricarlo scaricarlo girate e poi fate il camber e il caster caster è questo il camber è questo poi allargare e stringere mi raccomando qui non mettete mai vd40 vd40 deve essere ovunque nel kartio voi tante berlo voi tante del mondo ma qui no e sulla sale cioè qui no e sui freni no allora non c'è ripartitore della frenata in avanti si va sul davanti sull'anteriore dietro sul posteriore poco grip sul bagnato andate tanto sul dietro sono bloccato davanti e lo fate solo sul rettilineo consiglio il sedile lasciatelo così piuttosto andate indietro con la pedaliera poi radiatore con la tendina d'inverno lo chiuderete quasi tutto per un radiatore molto grande d'estate potrete quasi anche toglierla temperatura ideale siamo sui 45 50 d'estate magari anche a 55 60 preoccupatevi per cosa userete dove andrete divertirsi beh jesolo domanda difficile chi è il più veloce carrellino che si può chiudere qui giù così quindi ragazzi il kart da ora in poi è vostro però è come se fosse anche un po mio ancora livello sentimentale io lo terrò per sempre nel cuore fatemi sapere bocca al lupo a tutti fate i bravi fatemi sapere se avete bisogno non chiamatemi ciao ok sicuro vai tranquillo dove fatti i bravi divertitevi bravi ciao 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 ciao